buongiorno oggi cuciniamo acqua cotta ricetta tipica toscana per realizzare questa ricetta utilizzeremo il dado brodo funghi porcini bauer prendiamo il nostro dado lo inseriamo all'interno della pentola e portiamo a riscaldare l'acqua passiamo a conoscere gli ingredienti della ricetta per la ricetta utilizzeremo olio extravergine di oliva uova cipolla pane toscano sedano pecorino polpa di pomodoro vino rosso e foglie di alloro versiamo dell'olio extravergine di oliva in pentola inseriamo la cipolla aggiungiamo il sedano facciamo appassire per qualche minuto proseguiamo con il vino inseriamo la nostra foglia di alloro e aggiungiamo il pomodoro appena prende il bollore bagniamo con il nostro brodo e porcini a questo punto possiamo abbassare la fiamma aggiungiamo un po' di brodo per far perdere il bollore e aggiungiamo l'uovo sbattuto e aggiungiamo un po' di brodo ultimata la cottura versiamo la minestra aggiungiamo il nostro crostone una spolverata di pecorino un filo di olio extravergine ed il piatto è pronto come tocco finale vi consiglio del peperoncino fresco tagliato a pezzettoni e delle scaglie di tartufo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti